Momenti di paura e confusione questa mattina ad Altamura, dove in via Giustiniano è divampato un incendio. Fiamme alte, tanto fumo e scoppia hanno allarmati i residenti della zona e i palazzi confinanti sono stati immediatamente fatti evacuare. Le fiamme sono divampate per causa ancora da accertare all'interno di un garage di una palazzina, che a causa del rogo ha subito danni ancora da quantificare a balconi e appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e gli uomini della municipale. Secondo quanto rilevato non dovrebbero esserci feriti, si attendono ulteriori aggiornamenti per far luce sulla vicenda.